Don Mazzi, certo, vero che è Mazzi, giusto? Mi assolve Don Antonio Mazzi. Don Antonio, buongiorno. Eccolo, eccolo. Sono in partenza con 100 educatori per l'Aquila, penso a te. Eh, buon viaggio. Eh, allora, la frasetta è impegnativa, soprattutto per gli educatori. Educare, l'educazione è sempre in salita. L'educazione è sempre in salita. Ci siamo? È vero, è vero, però è una salita da fare, caro Don, grazie anche a Don Antonio Mazzi.